Oh caspita, Luchè! Ma dove sono? Come l'ho mai disperso in questa valle? Con cosa mi sosterrò? Al par sud! Guarda che bello! Abbiamo questo taglio per vedere se troviamo un'uscita. Saluto tutti i miei cari se non dovessero tornare. Allora! 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 È un po' che sono fuori! È un po' che sono fuori! O pola bruciita